Il testo non è stato insieme per appello nominale, vi ricordo che serve una maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Il voto è aperto. Avete votato tutti? Posso chiudere il voto? Il voto è chiuso. Approvato. 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 Congratulazioni, Presidente Sargentini. Passiamo al sistema d'armi autonomi, la proposta di risoluzione comune di sei gruppi. Paragrafo 6, il testo originale. Chi è a favore? Chi è contro? Chi si astiene? Approvato. Considerando di testo originale, chi è a favore? Chi è contro? Chi si astiene? Approvato. Votiamo la risoluzione del suo insieme per appello nominale. Il voto è aperto.